Ci deve rimanere assolutamente l'entusiasmo, la consapevolezza di aver ripreso una partita, come ho detto a tanti, siamo stati un po' come l'Araba Fenice, siamo risolti dalle ceneri. È chiaro che questa forza te la devi portare dietro e altrettanto ti devi portare dietro i primi minuti dove potevamo fare di più e non stavamo facendo. Però è importante cavalcare l'entusiasmo e la forza di una partita dove ci vedeva sconfitti e siamo riusciti a ribaltarla. Quello io penso che sia lo spirito con il quale dobbiamo iniziare la gara domani. Se io vi dovessi dire che è un gruppo che ha sbagliato un allenamento, vi direi una menzogna. Non c'è stato un giorno da quando abbiamo iniziato che questa squadra non si è allenata in maniera violenta, violentissima. Quindi la cosa che dava fastidio è che secondo me non avevamo dal punto di vista mentale quella maturazione di dare continuità alle presagioni. A un certo punto secondo me ci sentivamo troppo bravi. E quando ti senti troppo bravi, non cavalchi l'entusiasmo, non giochi con qualità, poi nelle difficoltà all'interno della partita non sapevamo starci. Ma domani ormai ci siamo focalizzati su quelle che erano le finali da giocare. Questo l'ho detto a voi più volte ma lo ribadisco continuamente a ogni singolo calciatore e sempre alla squadra. Noi c'eravamo prefissati di fare 15 finali, le prime due sono andate bene, ora ne rimangono 13 ma ogni partita è una finale. E domani in chiave classifica è chiaro che è una partita che pesa molto, che pesa tanto perché giochiamo con quella che in questo momento è l'ultima della classe, ma è una squadra che ha cambiato molto, ha cambiato allenatore, ha cambiato tantissimi calciatori. Annovera nelle proprie file giocatori esperti che erano anche in categoria superiore. Insomma domani è una partita complicata e come ho detto alla squadra noi dobbiamo subito resettare quello che è stato e concentrarci subito su quello che è l'impegno di domani con la consapevolezza che se dovessimo allungarci o se dovessimo esporci a delle eventuali ripartenze o dovessimo concedere tanto tempo e spazio a giocatori del calibro di Massimo, Vano, Susu, Stiepovic o Bocic o tutti quelli che loro hanno nel reparto avanzato è chiaro che potremmo andare in grande difficoltà. Quindi è una partita che dobbiamo assolutamente approcciare bene con la consapevolezza che in chiave classifica è estremamente importante.